Musica Inaugurati i nuovi impianti sportivi di Santo Stefano Daveto, taglio del nastro per campo da basket, parete di arrampicata e pista da pattinaggio, riqualificati anche i campi esistenti. Inaugurata a Sestri Levante, la quinta spiaggia accessibile per i disabili. Si trova a Portobello, nella Baia del Silenzio, il progetto possibile anche grazie ad un finanziamento regionale. San Lorenzo, il diacono martire che ha incarnato lo spirito di servizio e di prossimità ai bisognosi. La riflessione proposta in occasione della festa celebrata nel quartiere di Levi. Ospiti nel Tiguglio, dieci bimbi sarawi e i loro accompagnatori, grazie ai volontari di Shanti Sara, effettueranno visite mediche, cure riabilitative, in campo enti e associazioni per aiutarli. San Salvatore di Cogorno si immerge nell'atmosfera medievale, iniziata la Sagra del Contado con la rievocazione degli antichi mestieri e domani c'è l'addio Dufantin. Festa in bianco per gli ospiti della residenza Aniazzurri Castagnola di Chiavari. Nella casa di cure è andato in scena un momento di socializzazione e svago in abito rigorosamente bianco. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tiguglio oggi. A Santo Stefano Daveto questa mattina sono stati inaugurati gli impianti sportivi appena risistemati. Ora in paese si possono praticare calcio, volley, basket e tennis oltre alle bocce, ma c'è anche una parete per l'arrampicata e una innovativa pista di pattinaggio. Servizi certamente utili per i visitatori estivi, ma anche per i giovani che popolano la valle tutto l'anno. Vediamo. Quali lavori avete eseguito? I lavori sono stati di ristrutturazione dell'ex bocciodromo, attualmente Pala Arvigo, dove prima appunto si giocava bocce. Adesso, come potete vedere, abbiamo installato una parete di arrampicata e una pista di ghiaccio sintetico, ecologico. Una ditta spagnola che permette di avere questi impianti con bassissima manutenzione e utilizzabili tutto l'anno. Tutto il progetto, il comune ha fatto un finanziamento col credito sportivo per un totale di 450 mila euro. Oltre questo, come vedete lì in fondo, c'è anche una tribuna retratile per il pubblico e oltre questo, all'esterno, abbiamo rimesso a nuovo le pavimentazioni del campo da basket, del campo da tennis e della tensostruttura, con nuove resine che permettono appunto di giocare anche mentre piove, ad esempio, perché comunque abbiamo rimesso in ordine tutte le pendenze e anche questo è un'altra opportunità per i ragazzi. Basket, pallavolo, tennis e calcetto a cinque. Per cui l'offerta sportiva è aumentata veramente molto. Qua ci troviamo sul campo sportivo, anche questo in fase di ristrutturazione, siamo con il vice sindaco. Avete fatto una bella attrezzatura sportiva, o meglio rimodernata? Sì, diciamo che abbiamo fatto il possibile, perché la vecchia bocciofila non era più funzionante, quindi abbiamo cercato di riqualificarla, mi sembra che siamo andati anche nel migliore dei modi, più di così mi sembra che non si poteva fare. I campi erano comunque vecchi, avevano bisogno di essere rifatti e abbiamo cercato di mettere a nuovo tutto. Su questo campo sportivo invece giocherà la squadra di terza categoria, almeno per una prima parte di preparazione? Penso che la preparazione la faccia quasi tutta qua. E quindi poi andremo a fare dei lavori anche qua, che comunque sono previsti, e così che sia pronto per la prossima primavera. È stata aperta questa mattina a Sestri Levante la quinta spiaggia accessibile per i disabili. Si tratta questa volta di un ingresso al mare, mediante una pedana posizionata nella baia di Portobello e una sedia Sand & Sea, cioè autospinta. Mediaterraneo Servizi, inoltre, ha dato la disponibilità ad offrire il bagno all'ingresso dell'annunziata. L'obiettivo è stato raggiunto anche grazie ad un finanziamento regionale. Vediamo. Siamo all'inaugurazione della nostra quinta spiaggia accessibile in quattro anni. Credo che sia un vero e proprio record, una località balneare con cinque spiagge pubbliche accessibili. E poi oggi lo abbiamo fatto, l'abbiamo inaugurata nella Baia del Silenzio, quindi uno dei simboli del nostro territorio. E aver potuto rendere accessibile, con la possibilità di fare un bagno in Baia del Silenzio, anche alle persone che hanno difficoltà a raggiungere l'arenile, insomma, credo che sia davvero una grande soddisfazione che condividiamo con tutti i cittadini e con l'associazione Noi Andiamo, che ci ha spronato e ha promosso questa iniziativa. Accessibilità significa che le persone con disabilità possono accedere dal mare in modo autonomo? Sì, vuol dire questo, vuol dire che dove noi creiamo un ingresso accessibile, tutti possono usufruire e fruire di questo ingresso. Quindi pensiamo alla persona anziana, claudicante, la mamma col passeggino, tutti passano attraverso le nostre pedane. Poi è chiaro, noi mettiamo a disposizione del materiale specifico che solo le persone che hanno quel tipo di problematica possono utilizzare. Abbiamo dei lettini alti necessari per il trasferimento dalla carrozzina al lettino e abbiamo delle sedie che entrano in maniera autonoma in acqua, sedie d'autospinta. Quindi diamo questo materiale poi a titolo gratuito alle persone che ne hanno bisogno. Però gli accessi sono liberi perché sono fatti su spiaggia libera e quindi tutti ne possono usufruire. Sempre questa mattina a Portobello è stato attivato un nuovo defibrillatore acquistato grazie alla cena di beneficenza organizzata dall'associazione Food Experience e Yacht Club Sestri Levante. I fondi raccolti hanno consentito l'acquisto di due di questi strumenti, uno dei quali è già installato e attivo al Porto Sestrese. Il secondo è posizionato all'altezza della fontanella all'ingresso della Baia del Silenzio, corredato da cartelli e indicazioni. L'amministrazione si farà carico dei costi di assistenza e controllo del defibrillatore. Dal nostro sito, teleradiopace.com, i medici dell'ospedale San Martino di Genova hanno dovuto amputare la gamba ferita di Massimo Pescio, l'uomo che era stato investito martedì pomeriggio sulle Grazie a Chiavari da un'auto pirata. Dopo un primo intervento, che aveva lasciato qualche speranza di salvare l'arto, ha spiegato Pietro Pisano dell'ufficio stampa dell'ospedale, il quadro clinico è peggiorato e i sanitari sono dovuti intervenire per salvare la vita del Chiavarese, dato che la situazione stava compromettendo il sistema vascolare dell'uomo. L'amputazione è stata effettuata sotto il menisco della gamba sinistra. Ha ripreso a bruciare, fortunatamente in maniera piuttosto circoscritta, l'incendio boschivo che era divampato ieri pomeriggio in località Manico del Lume, a Cicagna. Attorno alle 11 di questa mattina hanno ripreso vigore le fiamme nella zona che ieri era stata colpita da un fulmine. E nel primo pomeriggio di oggi c'è stato anche l'intervento da parte dell'elicottero dei vigili del fuoco per una bonifica dell'area che è molto impervia e difficilmente raggiungibile. Alcuni alberi infatti rischiavano di cadere più a valle e quindi rischiavano di espandere le fiamme ulteriormente. I vigili del fuoco per precauzione hanno chiesto alle squadre dei volontari antincendio boschivo di monitorare costantemente l'area. Le fiamme, come detto, si erano sviluppate attorno alle 17.30 del pomeriggio di ieri nella fitta vegetazione nel versante nord del monte Lasagna, come detto in località Manico del Lume, a Cicagna. La zona è distante sia da case che dalle strade di accesso. Stiamo vedendo l'intervento che è stato effettuato nel primo pomeriggio di oggi dall'elicottero dei vigili del fuoco in questa località per tenere sotto controllo le fiamme. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato oltre 387.500 prodotti di note marche di moda che erano pronti per essere smerciati nel capoluogo ligure sulle spiagge della Liviera. I controlli sono stati svolti nell'ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy. Gli interventi hanno consentito di smantellare alcuni depositi in cui veniva nascosta la merce contraffatta e di denunciare all'autorità giudiziaria due responsabili per i reati di recettazione, introduzione e commercializzazione nello Stato di prodotti con segni falsi. Un altro soggetto, oltre a essere stato denunciato per questi stessi reati, è stato tratto in arresto perché opponeva resistenza all'attività di polizia giudiziaria. E' giudicato con rito direttissimo. Due persone di 42-48 anni di Sestri Levante sono state sorprese mentre abbandonavano lungo l'Aurelia, nella zona di Castiglione Chiavarese, dei rifiuti pericolosi e non, scaricandoli da un furgone di loro proprietà. I carabinieri della stazione forestale Sestrese li hanno denunciati. E' emerso poi che avevano effettuato altri tre trasporti con lo stesso autocarro senza il formulario per il trasporto rifiuti e così sono stati sanzionati. Una cittadina straniera di 57 anni ha rubato alcuni accessori per un valore di 400 euro all'interno di una boutique a Portofino. I carabinieri e la polizia locale l'hanno denunciata. La refurtiva è stata recuperata e restituita. La figura del diacono San Lorenzo richiama un'immagine di servizio e di prossimità alle persone bisognose. E' quanto ha richiamato il parroco di Leivi e Camposasco, Don Franco Brioni, durante la festa celebrata nell'omonimo quartiere leivese. La festa di San Lorenzo anima un quartiere di Leivi che in estate si popola di tanti villeggianti e turisti. Sebbene in una veste più circoscritta rispetto al passato, la ricorrenza è celebrata con solennità. Faccio tutti gli anni Massaro, vengo volentieri perché io da sei anni con mio papà venivamo sempre qua, mi ricordo che c'era tanta gente, venivamo alla sera della festa, c'era l'osteria, c'era il balo, c'era tutto, alla sera si ballava, però mi ricordo da bambino e vado avanti, è troppo bello. La preparazione materiale alla festa ha coinvolto molte persone del quartiere e non solo. Accanto a questo si è snondato un percorso spirituale nei giorni della novena e con la celebrazione dell'eucaristia prefestiva, che proseguirà per tutto il mese di agosto in condivisione con la vicina cappella di Sanferma Villoneto, radunate dal nuovo parroco della zona pastorale. Credo che il compito di tante persone che vogliono mantenere vive queste tradizioni è il compito intanto di vivere ognuno secondo il proprio modo, la propria fede nel Signore. E non solo un atteggiamento rivolto a sé, ma rivolto anche agli altri, e quindi annunziare anche la gioia, mi sembra, dell'essere comunità, dell'essere fratelli e sorelle. San Lorenzo è il diacono che indica la via del servizio al prossimo come scelta di vita. Un giovane uomo morto martire, il cui messaggio di prossimità e fratellanza è sempre attuale. Il messaggio è quello di essere all'interno delle comunità con un cuore pronto a servire, pronto a sacrificarsi, anche cosa che a volte forse noi mettiamo un po' da parte. E mi sembra che invece Lorenzo ci richiami che quando noi scopriamo il valore che ci guida, in questo caso il nostro valore è il Signore, il Vangelo, è la sua bella notizia, allora siamo chiamati anche a buttarci con coraggio, a metterci in gioco con serietà. I Santi Cipriano e Giustina Martiri saranno festeggiati nella parrocchia di San Bucceto a Nè. Domani alle 17.30 la Messa Solenne, al termine un momento di festa sul piazzale della Chiesa. Festa di San Gaetano nella parrocchia di Santa Maria della Neve a Campo Osasco. La Santa Messa alle 9.30, alle 17.30 al Vespro e la processione con l'Arca del Santo, presieduta da padre Giustino Oliva degli Oblati di Santa Maria Vergine di Chiavari. Al termine si terrà un momento di condivisione organizzato dai parrocchiani. Sono molte le comunità parrocchiali della nostra diocesi che in questo tempo celebrano alcune festività legate a Maria. Solennità mariane che riassumiamo in questo nostro servizio. Nel pieno del clima vacanziero dell'estate si inseriscono numerose feste patronali, molte dedicate a Maria, che il 15 agosto la Chiesa celebra assunta in cielo. Nelle comunità diocesane la Madre di Gesù è venerata sotto diversi titoli. A Pezzonasca di Moconesi si festeggia la Madonna dei Fiori. Nella cappella, posta lungo la provinciale 225 della Fontana Buona, domenica la Santa Messa alle 21 e le Benedizione dei Fiori. A Zoagli, nella chiesa di Sant'Ambrogio, si celebra Nostra Signora della Salute. Domenica le Santa Messa alle 7.30 e alle 10.30 preseduta da Monsignor Lelio Roveta. Alle 18 la Messa è a seguire la processione con l'Arca della Madonna, l'adorazione e benedizione eucaristica. Nella cappella di Villa Granda Cichero la festa in onore della Madonna del Silenzio. Alle 18 la Santa Messa e la processione. Nel cammino di preparazione alla solennità dell'Assunta, nella chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo, domenica e lunedì Santa Messe alle ore 18. Martedì, giorno della solennità, le Messe alle 8, alle 10.30 preseduta da padre Luca Bucci, alle 20 celebrata da Don Walter Bonnetto, a seguire la processione con i crocifissi dell'Arciconfraternita di Nostra Signora del Suffragio. Arriva Trigoso nella parrocchia di San Pietro, si festeggia la Madonna del Buon Viaggio. Domenica alle 20.45 la liturgia della parola con i bambini e i ragazzi e la processione sul piazzale della chiesa. Lunedì alle 20.30 la Messa Vespertina celebrata da Don Stefano Mazzini, Vicario Generale della Diocesi. Martedì, giorno della festa, le Sant'Emesse alle 8, alle 10, alle 19. Alle 20.30 il Canto del Vespre, la processione guidata da Don Mauro Gandolfo, al termine la benedizione eucaristica. Nell'oratorio dell'Assunta a Portofino, vigilia di preghiera lunedì 14 agosto, con l'adorazione eucaristica e la possibilità di celebrare il sacramento della riconciliazione sino a mezzanotte. Martedì alle 10 la Messa al Santuario di Nozzarego, alle 18 la Messa all'Oratorio di Portofino, presieduta da Monsignor Erminio Descalzi. Santa Maria Assunta è la titolare della parrocchia di Temossi a Borzonasca, dove i tre giorni di festeggiamenti civili culmineranno martedì con la Santa Messa, nel pomeriggio alle 16.30, e la processione con la venerata immagine di Maria. In festa anche i parrocchiani di Missana, Castiglione Chiavarese, domani giornata dedicata ai bambini, che alle 20.30 offriranno i fiori a Maria, lunedì Messa della Vigilia alle 20.30, martedì la Santa Messa alle 10.00, alle 20.30 al Canto del Vespro, presieduto da Don Andrea Buffoli, a seguire la processione, l'adorazione e la benedizione eucaristica. Sabato 19 agosto la comunità parrocchiale di Reppie in Val Graveglio organizza una cena aperta a tutti coloro che vorranno partecipare da tutte le parrocchie della valle. La cena si svolgerà nella casa per gruppi vacanza, che è stata recentemente risistemata. Occorre iscriversi entro mercoledì 16 agosto, prendendo contatto con il parroco Don Stefano Libini. In questo periodo, a Lavagna, l'associazione Shanti Sahara ospita i bambini sarawi, bambini speciali giunti in Italia, soprattutto per essere sottoposti a visite mediche. I volontari hanno trovato nel tempo numerosi amici, enti e associazioni disposti a dare una mano. Ma chi sono i sarawi e perché arrivano nel Tiguglio? Siamo andati a trovarli per spiegare la loro storia. I sarawi attendono da decenni il riconoscimento dell'autonomia del proprio popolo, che pur essendo da secoli una nazione, non vive nella sua terra, ma in esilio. Le tendopoli si concentrano in parte a sud dell'Algeria e in parte nel suo antico territorio, oggi occupato dal Marocco, l'ex Sahara occidentale spagnolo. Dal 1975, quando la Spagna ha liberato la colonia e il Marocco l'ha invasa, ad oggi, nonostante la resistenza armata a sarawi, la situazione non è cambiata. Il referendum per l'autodeterminazione non c'è stato. Gli sforzi dell'ONU non hanno spostato di un centimetro la barra dei risultati politici. In questo quadro, migliaia di bambini crescono nei campi profughi, spesso con patologie invalidanti e scarsi mezzi. La loro speranza passa da associazioni come Shanti Sahara, che si incarica di far trascorrere ad alcuni di loro un periodo estivo nel Tiguglio, dedicato a cure, percorsi riabilitativi e tanta accoglienza. I bimbi hanno patologie cognitive e o motorie. Ci sono tanti bimbi che soffrono di epilessia. È una patologia che riusciamo molto bene ad affrontare. Quindi tanti bimbi li portiamo qui con questa patologia perché riusciamo a trovare la cura che serve loro per stare meglio. In questo periodo, dieci ragazzini accolti e i loro accompagnatori sono nei locali della parrocchia di Maria Madre a Lavagna. Gruppi e associazioni locali si danno da fare per aiutarli. Chiunque può passare a trovarli e dare una mano. Stiamo facendo una raccolta fondi per iniziare a pensare a comprare le valigie, a comprare tutte le medicine che metteremo nelle valigie perché i bambini avendo problemi sanitari partono con una valigia di medicine che li basterà per tutto l'anno nel deserto. Forse un bimbo si potrebbe fermare a seconda di come andranno le prossime analisi in Italia per un'operazione, quindi raccoglieremo anche i soldi per questa evenienza. Fadila viene in Italia da sei anni, Uafa da sette. Vengono dai campi profughi di Usert e Smara e hanno imparato molto bene l'italiano. Che cosa ti piace fare quando arrivi qua a Lavagna? Mi piace andare al mare, conoscere gente, giocare con bambini. Sei contenta che ci sia questa possibilità da parte dell'associazione di portarvi qui per le cure, per le visite? Molto contenta perché ci fanno tante visite e fanno il possibile per farci guarire. L'associazione Civitas Umana ha organizzato una cena di beneficenza per domani, domenica 13 agosto alle 20, al Circolo Ricreativo Fratellanza di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Metà del ricavato sarà devoluto all'associazione Shanti Sahara. L'altra metà andrà all'associazione Casa Amica Onnus di Milano che accoglie i malati lontani da casa, le loro famiglie e i loro accompagnatori. Per prenotare 320-4370-028. Questa sera nel Borgo dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno si svolge la prima di due serate totalmente immerse nel clima medievale. La Sagra del Contado con le esibizioni di arti e mestieri è iniziata nel pomeriggio e prosegue questa sera con la rappresentazione finale, la benedizione finale del gruppo teatrale Moneglia, ispirata alla vicenda di Innocenzo IV. Noi siamo andati a raccogliere per voi un'anteprima. Il Borgo dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno si immerge nell'atmosfera medievale con la Sagra del Contado, il giorno precedente la rievocazione storica della Dio Dufantin. Artigiani che propongono i loro manufatti e piatti della tradizione preparati dall'Accademia della Ciappa fanno da sfondo alle esibizioni di giocolieri, artisti, danzatori e musici proprio come, così ci immaginiamo, doveva avvenire nel Medioevo. In collaborazione con il Comune di Cogorno si è pensato di raddoppiare la Dio Dufantin. Questo perché? Per cercare di far vivere il Borgo non soltanto nella sera magica del 13 agosto ma anche in un modo diverso, diciamo più tranquillo, con ritmi più rilassati il giorno precedente. Questo anche per poter consentire di godere di cose che di sera non si possono fare, cioè per esempio ammirare il volo dei falchi i quali hanno ovviamente dei tempi di luce oltre i quali non possono andare. Si entra così nel vivo della rievocazione delle nozze del Conte. Domenica 13 agosto, sempre nel Borgo dei Fieschi, Opizzo festeggerà il suo addio al celibato fra danze e spettacoli di ogni genere. Mentre nella vicina Lavagna l'Araldo attraverserà il centro storico a cavallo per annunciare le sue imminenti nozze. Lunedì 14 agosto a Lavagna la rievocazione delle nozze con la nobildonna senese Bianca De Bianchi con il corteo che raggiungerà Piazza Vittorio Veneto per il simbolico taglio della celebre torta e la festa con tutta la corte. Intanto però a San Salvatore è già medioevo. I protagonisti di questa nuova sfida qui a San Salvatore sono naturalmente il gruppo Le Grazie d'Amore dei Sestieri di Lavagna con la collaborazione dei Sestieri di Lavagna la compagnia d'armi Flos e Duellatorum le carole di San Martino che espongono tutta una serie di banchi antichi dal Sarto al Falegname allo Speziale il Flos Duellatorum che ha già anticipato il suo bivacco e che avrà altri spazi l'associazione culturale Yanna Tampe di Borghetto Borbera che è un ospite ormai consolidato di questo spazio e che il 12 agosto propone anche cose diverse da quelle del 13. E in occasione della torta dei Fieschi a Lavagna i divieti per auto e moto entrano in vigore a partire dalle 14 di lunedì 14 agosto. Non si potrà transitare in piazza Vittorio Veneto via Matteotti via Nuova Italia via Cavour piazza della Libertà via 20 Settembre via Marsala via Dante via Castagnola via Piazza della Meridiana e nella piazzetta di via Pessagno quindi dalle 14 di lunedì fino alle 2 del mattino di martedì 15 agosto. La circolazione da e per piazza della Meridiana sarà consentita a senso unico alternato in via Castagnola in piazza della Meridiana e in via Castagnola sarà consentita la circolazione e la sosta solo ai veicoli che spongono l'apposita autorizzazione rilasciata in deroga. In piazza Cordeviola è autorizzata la sosta agli autocarri necessari per la movimentazione dei jersey che chiuderanno le strade. Musica, abito rigorosamente bianco, focaccia e bibite. No, non è il programma di uno dei molti eventi che stanno caratterizzando l'estate del Tiguglio ma sono stati gli ingredienti di una festa riservata agli ospiti della residenza Aniazzurri-Castagnola di Chiavari. Un'occasione importante di svago e di socializzazione che è fondamentale nel percorso di cura dell'anziano. Vediamo. Dottore, giornate come queste fanno bene? Le giornate come queste fanno benissimo fanno benissimo a tutti soprattutto ai nostri ospiti che vedete come sono numerosi e allegri direi che questo forse è una parte più importante della terapia che possiamo fare oltre a tutte le altre terapie è una terapia di supporto psicologico è un momento di animazione colloquiano fra di loro si forma il gruppo in poche parole. Anche perché la giornata è lunga? La giornata è lunga però qui in questa struttura poi c'è tutta la parte di animazione quindi c'è proprio il personale addetto all'animazione c'è anche l'appetiterapia cioè la terapia coi cani che è importantissima c'è la fisioterapia importantissima motoria soprattutto è adesso uno dei progetti che grazie alla nuova direttrice e alla direzione regionale cerchiamo di mettere in piedi sfruttando la presenza del vecchio pneumologo visto che l'affluenza di malati respiratori è importante pensare anche alla riabilitazione respiratoria quindi stiamo facendo un ciclo di lezioni con personale specialistico proprio per addestrarci addestrare il personale al trattamento alla fisioterapia respiratoria questa è una delle nostre tante manifestazioni eventi per i nostri ospiti per i parenti dei nostri ospiti perché il nostro gruppo la nostra residenza ci tiene molto a mantenere vive le tradizioni vive la loro attività la loro normalità e quindi abbiamo deciso in questa estate di manifestare il nostro affetto nei loro confronti dedicandogli delle serate abbiamo fatto la grande buffata quando in centro storico c'era la grande buffata anche all'interno della residenza è stata fatta ha avuto un grande successo allora questa sera con l'animatrice Sara Sturlese ha avuto questa idea di fare il white dinner quindi abbiamo chiamato un angolo di recco dove ci preparerà la focaccia al formaggio poi avremo altre pietanze e ci fa piacere perché poi tendenzialmente anche i nostri vicini affluiscono fanno festa sì fanno festa anche loro sì fanno festa anche loro ora sfogliamo insieme la nostra agenda per scoprire tutti gli eventi che sono in programma nel Tiguglio per domani e per lunedì domenica 13 agosto ci sarà la dodicesima edizione della corsa podistica Marcia Mare e Monti di San Lorenzo a Framura ritrovo in località Castagnola alle 8 a Vico Soprano di Rezzoaglio dalle 9.30 sarà presente una bancarella promissioni seguirà alle 15 la quinta edizione del torneo di bocce festa patronale di San Lorenzo a Villa Cella di Rezzoaglio messa solenne alle 11.30 pranzo sul piazzale della chiesa il ricavato sarà destinato al rifacimento del tetto della parrocchiale l'associazione sportiva prima stella di Framura organizza l'escursione da Bonassola alla scogliera del salto della lepre il ritrovo alle 17 nella piazza della chiesa di Bonassola il maestro pasticcere Maurizio Bonanomi sarà all'emporio enogastronomico parla come mangi di Rapallo alle 18 in via Mazzini ci sarà un incontro degustazione dei panettoni del maestro il ricavato delle offerte andrà all'associazione Arche un dentista per amico tredicesima edizione della sagra Casun Sutta Penna a Casoni d'Amborzasco nel comune di Santo Stefano Daveto stand gastronomici dalle 19 e serata danzante nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo continuano i festeggiamenti per Nostra Signora Assunta dalle 19 stand gastronomici e serata danzante con l'orchestra Giorgio Villani festa all'aperto a Temossi organizzata dal Circolo Acli stand gastronomici alle 19 e serata danzante con l'orchestra Andrea Spillo all'interno del festival Paganiniano di Carro si terrà un concerto di archi e flauto dedicato al virtuosismo strumentale italiano l'inizio alle 21 in piazza dell'Immacolata di Ponzano Alto nel comune di Santo Stefano Magra nell'ambito del festival organistico internazionale il soprano Patrizia Bozzo si esibirà insieme all'ensemble barocco Rapallo Musica alle 21 e 15 nella Basilica dell'Immacolata Concezione di Sassello spettacolo di magia e comicità per le celebrazioni della Madonna del Buon Viaggio a Sestri Levante dalle 21 e 15 l'appuntamento è sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Riva Trigoso lunedì 14 agosto nell'ambito del festival Paganiniano di Carro Dario De Cicco terrà l'incontro la pratica musicale nel Levante Ligure ai tempi di Paganini alle 18 e 30 a Casanasca a Carro a seguire in piazza della chiesa esibizione di Steffen Swedish insieme al quartetto Cremona per i festeggiamenti per Santa Maria Assunta nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo stand gastronomici dalle 19 serata danzante con Emanuela Buongiorni a Temossi il Circolo Acli organizza serate con gastronomia e ballo a partire dalle 19 con piatti tipici poi spettacolo con l'orchestra Marianna Lanteri festa di San Rocco a Setta di Framura l'inizio alle 19 con la Tombola quindicesima Sagra di Amborzasco con stand gastronomici e serata danzante dalle 19 nella località di Amborzasco nel comune di Santo Stefano Davito a Santo Stefano Davito andrà in scena alle 21 il concerto dell'orchestra Michele Fenati proiezione fotografica dedicata agli anni 60 arriva Trigoso di Sestri Levante la mostra realizzata dall'associazione fotografica Carpe Diem inizierà alle 21.30 in zona biblioteca e dal bar Uppunentin la compagnia Artemis Levante porta in scena la commedia La cena dei cretini nel riadattamento di Francesca Capitanio Mevilli l'inizio alle 21.30 Villa Tiguglio a Rapallo Siamo allo sport incominciamo dal calcio andiamo sul sito della Virtus Entella che oggi ha ufficializzato un nuovo acquisto si legge nel sito la Virtus Entella comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Provercelli per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Lamantia attaccante nato il 6 maggio del 1991 ad Andrea che vediamo nella foto accolto al comunale da Andrea Catellani la società tramite il proprio sito internet rivolge un caloroso benvenuto anche da parte del presidente Gozzi ovviamente di tutta la famiglia Entella dal calcio alla pesca al lago di Giacopiano si sono svolte le due prove del campionato Ledgering 2017 a 7 pesca a fondo ai Ciprinidi buoni piazzamenti degli atleti della FIMA Chiavari Alessio Alessiani ha inanellato due primi posti di settore portando al peso ben 7 kg e 790 g di scardole nelle gare del mattino e vincendo l'assoluto di gara e proclamandosi campione sociale della specialità secondo posto sul podio e trofeo d'argento per Emanuele Oliva bronzo per Matteo Zamparutti Terminiamo così questa edizione di Tiguglio Oggi io vi ricordo che la nostra informazione ritorna lunedì mattina alle 7.30 con il buongiorno di Telepace ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com grazie per averci seguito buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.